Marena. Testa bionda, corpo massiccio, grande camminatrice. Mi presento. Sono un'orsa e mi chiamo Amarena. O meglio, gli uomini così mi hanno chiamato, perché spesso mi trastullo sugli alberi di ciliegie ad assaporare quei dolci frutti di cui sono molto ghiotta. Sono nata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio Molise. E qui ho trascorso tranquillamente i miei primi anni di vita, girovagando quella e mangiando tutto quello che di commestibile trovavo. Vita tranquilla da orsa normale, se non fosse per il fatto che mi piace allontanarmi dai boschi ed avvicinarmi ai paesi che sono nel parco. Mi piaceva già da piccola, quando girovagavo tra le viuzze di San Sebastiano ed ero attratta molto dagli odori e fragranze del luogo. Erano così invitanti ed irresistibili. Dalle case, lungo le stradine del paesello, annusavo profumi inebrianti, l'odore del brodo caldo, del sugo e quello della carne cotta alla brace che mi faceva letteralmente impazzire. Tanto da farmi dimenticare che lì avrei potuto incontrare quell'animale a due zampe che si chiama uomo. Mi definiscono orso confidente e problematico, cioè orso che non teme l'uomo ed interagisce con lui. Sono un orso che crea problemi di convivenza con l'uomo, perché spesso faccio razzia nei pollai e scavalco i recinti delle coltivazioni. È strano per un orso non avere paura dell'uomo, ma io ho superato questo timore, perché vicino alle case riesco a trovare facilmente del cibo. Resto sempre guardinga quando da lontano scorgo qualcuno. Cerco in ogni modo di stargli alla larga. D'altra parte, anche l'uomo non osa avvicinarsi molto. Forse teme i miei artigli e i miei denti accuminati.